Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video Allora oggi facciamo la recensione e diciamo una piccola unboxing del Samsung Gear Fit Che mi è arrivato ieri, che ora di sicuro prima di questo i Ho caricato, cioè sto caricando la recensione di questo Che è il Garmin VivoSmart E non ce l'ho fatta a farvelo ieri questa i perché era in carica Però ve lo faccio oggi Questo è il suo schermo a Super AMOLED Ora non lo vedeste tanto perché è troppo luminoso Perciò ha la recensione bella Questa è la nostra confezione, come potete leggere, Samsung Gear Fit È uguale a quelle dell'S5 Non di quelle lì, tipo S6 Così che sono diverse di scatole Che sono simile Il legno però è cartone riciclato ovviamente Nella confezione troviamo i cari a batterie Che è normale È da 0.5 Ampere Che basta ovviamente per i gear E lo spinotto Questo qui Potete mettere a fuoco E praticamente ha i connettori pin qui sotto E una micro USB qui Che va incastrato qui sotto Dove c'è questi contatti Qui sotto E Gear Fit Va incastrato qui E si collega la presa alla corrente E si ricarica Poi nella confezione troviamo ovviamente L'istruzione che non sto attivando è fuori E basta Passiamo invece ora al nostro dispositivo Eccolo qua Con il suo schermo Diciamo OLED Curvo AMOLED Come potete vedere da qui è curvo Allora da questa parte troviamo il pulsante Di diciamo accensione Spegnimento E blocco Per spegnere lo schermo E per riaccendere lo schermo E poi Basta Dall'altra parte Niente Poi sul cinturino E' molto Bellino Diciamo Con questo Se lo toccate Ruido Ho scritto Gear Fit qui Ho scritto Samsung qui E c'ha L'attacco Con questi due Agganci Che si attaccano nei forellini Come il Come il Garmin Vivo Smart E poi Ovviamente Sul frontale c'è lo schermo Sotto invece troviamo Il connettore per ricaricarlo E' questo qui E il sensore di battito cardiaco Per accendere il display Si può Rotare Stenendola il polso Rotare il polso E lui si accenderà Ora non si accende Perché non ce l'ho A polso Però C'è il pulsantino qui Io ho messo L'opzione Della vista così Perché se no Si poteva mettere anche per così Tipo l'ora Messa per così Ma Così tipo si vede un po' meglio Ah Questa è la schermata Iniziale ovviamente O l'ora La data E poi si possono cambiare Sia lo sfondo Che le opzioni Della schermata E il tempo Di qua troviamo Le notifie Che ora non ce ne appunte Il controllo multimediale Della musica Eccolo qui Con il volume E tutto E le impostazioni Del nostro dispositivo Qui in cima si dice Se è collegato Il bluetooth E la percentuale Della batteria L'orologio Come vi ho detto Si possa cambiare In tutti questi modi E poi se ne può scaricare Altri ovviamente Lo sfondo Dell'orologio Che ce n'è Un casino Se non si può mettere Una foto nostra Poi Lo schermo La luminosità Il polso usato E la rotazione Cioè O così O così Dello schermo Lo spegnimento Dello schermo Ogni quanto E la dimensione Del carattere In movimento Per attivarlo Il bluetooth La modalità Blocchi Profilo La doppia pressione Del pulsante Che io ho messo Quando si pigia due volte Il pulsantino Qui si accende Il battito cardiaco Se avvia Il battito cardiaco Il ripristino E le informazioni Su Gear Fit E poi Trova dispositivo personale Cioè Il telefono collegato Poi C'è altre schermate C'è il timer Il cronometro Il riposo I contapassi L'esercizio Cioè Corsa Scilismo Eccetera La frequenza cardia E poi si ritorna Alla schermata Home Ora andiamo a vedere L'applicazione L'applicazione è Samsung Gear Fit Manager Praticamente È questa qui È tutta Sulla sua schermata Qui ci dice Il nostro dispositivo Associato Si può disconnettere Rinominare Il numero Del modello E tutto Qui Lo styler Della vista Su il nostro Gear Fit Si può cambiare Lo sfondo Gli orologi Come vi ho detto Ora deve caricare Perché C'ha da caricare Questi qui Che sono scaricabili Dai play store E le icone Che io L'ho già inserite Tutte O si possano levare O si possano mettere La sincronizzazione Con S Health Qui ci sono Impostazioni Tipo l'intervallo Ogni volta Con sincronizzare I dati Su S Health Dai Gear Al cellulare Cerca In AppCon Che ci sono Le applicazioni Apposite Per il Gear Ora ve le sta Fa vedere Apri il google play store E ci sono Tutte queste Applicazioni Alcuna A pagamento Alcune gratis Poi le notifiche Che notifica Tutto E Quello che vi fare Le potete mettere voi E le impostazioni La pressione A dopo tasto Che si può gestire Sia da qui Che di qui La movimento D'attivazione E tutte le altre Impostazioni Non ce ne è molte Poi la guida Ovviamente Ora invece Passiamo a vedere Come notifica le cose Tipo mi mando Un messaggio Un messaggio Di Whatsapp Aspettate Due secondi Che lo scrivo Ho scritto Ciao Sta arrivando Sul telefono I Gear Vibra E mi dice I messaggi Arrivati Ci licco sopra Mi fa vedere Chi me ne ha mandato Lora I messaggi Poi si possono eliminare E mostrare Sul nostro dispositivo Ovviamente Io faccio eliminare E Va via Non vi sto A far vedere Le chiamate Perché Come ho detto Anche dalla recensione Del Garmin Vivo Smart Se no Appare il numero Perciò Non ve lo faccio vedere Però Appare scritto Chi vi sta chiamando Il numero Lora E poi Da una parte Se scorre in giù Si può rifiutare Con un messaggio Predefinito E si posta dal cellulare Se si scorre in su Si rifiuta la chiamata Direttamente Questa era la recensione Del Gear Fit Perciò Al prossimo video Bella a tutti Grazie a tutti